Ciao a tutti, Dreamlike Moon, vi dà il benvenuto al nuovo episodio di The Sims Medieval, nobili e pirati. Abbiamo aggiunto l'ultimo eroe che ci mancava alla taverna, cioè il bardo praticamente, però temo che non giocheremo con lui. Perché? Per questo semplice motivo. Allora, abbiamo solo 9 punti missioni disponibili, di cui 4 ce ne servono per fare l'ultima missione. Termina la guerra, strangola la gilda. Per cui questa sicuramente la faremo dopo questa, che ci occuperà le prossime 3-4 episodi. Volevo fare Volta Gabbana, però posso farlo solo con Siria, che abbiamo già visto. E volevo fare qualcosa che avesse a che fare, che coinvolgesse comunque l'eroe che si trova qua, che non abbiamo ancora conosciuto. Per cui il prete giacobiano. E l'unica cosa che posso fare con questo prete giacobiano è esame ecclesiastico. Per cui io farei questa e poi farei l'ultima missione, per concludere in bellezza questa stagione. Per cui esame ecclesiastico. Ah, comunque noi andremo alla taverna, tra parentesi, a conoscere chi è questo bardo, perché ve lo devo, insomma. Comunque, esame ecclesiastico, la chiesa giacobiana di Sacre Rovine era relativamente nuova. Relativamente? Appena stata creata. E godeva ancora di scarsa considerazione. I fondi inviati dall'autorità centrale della chiesa permisero di erigere un edificio tutt'altro che modesto. Ma in compenso i capi religiosi locali erano sotto pressione affinché mantenessero una forte influenza giacobiana nel regno. Nessuno si aspetta l'inquisizione giacobiana. La chiesa era tenuta bene, ma come se la sarebbe cavata la diocesi giacobiana di Sacre Rovine in un'ispezione a sorpresa? Per cui abbiamo chi? Il pastore Gabriel, che dice mi impegno affinché la mia chiesa rifletta la gloria del guardiano. Eh sì, come era facile immaginare se qua, per cui nel monastero pietriano, ci ha messo Daniel. Chiaramente il prete giacobiano sarà pastore Gabriel, ovviamente. Per cui il suo fratello gemello, anche lui proveniente dalla seconda generazione dell'erede di Forinfesta, passato a miglior vita e trovato si qua a caso. Per cui giocherei con lui, però mi è venuta in mente adesso, adesso, un'altra cosa. Cioè che mi mancano ancora degli edifici, non degli eroi, ma solo degli edifici secondari. Abbiamo il faro, dobbiamo mettere il mulino. E mi stavo chiedendo se per caso non si sbloccassero altre missioni, mettendo tipo il campo da palla reale. E cos'è che ci manca ancora? Il padiglione del guardiano, per cui colloca. Ci restano 20 punti risorse. Penso che il mulino, cioè chi se ne frega, non penso che capiti nulla al mulino. Non è un luogo dove fare missioni, ecco. Vediamo se così si è sbloccato qualcos'altro. Sì! Però nulla che riguardi la guerra. Per cui, chi se ne frega. Buffonata cos'è? Fai il giullare per un giorno. Requisito del gruppo, monarca. No, non ci interessa. Perché penso che l'ultima missione richieda eroe primario, monarca. Eroe secondario, chiunque. Per cui, penso proprio che sceglieremo a questo punto il bardo. Dato che non l'abbiamo ancora visto. Bene, allora, siamo pronti per iniziare l'esame ecclesiastico. Quindi, inizia la missione. Eee, ci troviamo qua il nostro caro Gabriel che sta dormendo. Sogni felici o infelici? Penso più infelici. È abbastanza confuso, ma d'altronde chi non sarebbe confuso se morisse al giorno d'oggi e si risvegliasse nel medioevo, voglio dire. Ovviamente non è assolutamente, neanche lontanamente vicino a come l'avevo creato, a come era nato in The Sims 4, ma vabbè, dettagli. L'importante è il carattere. Pastore Gabriel aveva lavorato per rafforzare la fede giacobiana a sacre rovine, ma restava ancora molto da fare. Un giorno l'ausiliare si rivolse a lui con l'aria piuttosto distratta. E mentre lui si sveglia, noi ci vediamo i suoi tratti. Ama la famiglia perché lui ha sempre fatto tutto in funzione della famiglia. Guardatelo. È dedito perché lui era un gran lavoratore, ma di costituzione debole. D'altronde non ha mai fatto sport in vita sua, per cui l'ho immaginato di costituzione debole, per l'appunto. Quindi, vabbè, mezzanotte, venti, io direi che dormi, tesoro. Dormi, tesoro mio. Però dobbiamo scoprire perché l'ausiliare sembra preoccupato. Sembra che Ottone, l'attendente, abbia le idee sconvolte da qualcosa. Io le idee sconvolte dal suo nome, penso un po'. Dov'è sto Ottone? Sta pregando, va bene. Comunque, io... Smeraldo, che ci fai qua a quest'ora? Ma soprattutto perché qua. Soprattutto, vabbè. Comunque, io rimango sempre... Sconvolta dalla bellezza dei luoghi in The Sims Medieval. E penso che la cattedrale giacobiana sia uno dei più belli edifici in assoluto. Cioè, guardate che meraviglia. Ehm... A parte questo sproloquio... Ehm... Ti prego. Mentre Pastore Gabriel dormiva, un senso di conforto e di felicità prese a concretizzarsi. Non sono capaci di parlare stasera. In un magnifico sogno. In lontananza si sentiva una musica dolce, portata da una brezza primaverile. E tutti sorridevano al suo passaggio. Gabriel vedeva un sentiero lastricato d'oro scintillante che conduceva a un incredibile paradiso. Nella direzione opposta, la via si perdeva in una fitta nebbia. Sebbene Gabriel riuscisse a scorgere una stanza da letto buia, inquieta, ma la pena visibile. Abbracciamo la gioia? O controllo il sogno? Controlliamo il sogno? No, abbiamo ricevuto la stato morale e nervi a pezzi. Che sfiga, si parte male. Vabbè che tanto di questa missione non è che mi interessa arrivare a livello platino. Non è fondamentale per la buona riuscita dell'ambizione. Comunque abbiamo già un numero, diciamo, minimo per terminare questa ambizione a livello platino. Io direi che se vuoi mangiare, caro mio, devi darti da fare. Raccogliamo un po' di risorse sperando di trovare semi. Perché scopri, ti vedo messo male. Lì c'è un cespuglio. Qua c'è altri fiori selvatici per cui dovrei poter trovare semi, forse, si spera. Anche qua raccogli. Questo cos'è? Morella. Eh, lo so che si è messo malissimo. Si parte male con lui, si parte molto male. Raccogli. Ma vabbè. Amen. Voglio dire. Sei sempre stato un po' sfigatello in vita, eh. Con l'amore soprattutto. Aveva sua moglie. Che ahimè in The Sims 4 ci ha appena abbandonati. Ho capito, hai abbastanza semi, tesoro? No, te ne manca uno. Per cui vai a raccogliere anche questi sperando di trovarci dei semi. E poi puoi andare a farti da mangiare. Oh, perfetto. Per cui torniamo qua. E preparati del cibo. Porridge di semi. Sei stato fortunato stamattina. Poteva non andarti altrettanto bene. Le sue responsabilità quotidiane sono ottenere un sermone e pubblicare un proclama. Sono le 10 e 21. Impostiamo l'ora del sermone per le 13. Ma dai, ti prego Gabrielle. E' questo che fa la costituzione debole. Scusate. Aiuto. Allora, usa così migliora la tua concentrazione che fa schifo. E poi dobbiamo pubblicare un proclama. Ma prima sentirei questo ottone. Ottone nausiliare. Che sta cercando di rimorchiare vicino alla brava donna. Cosa ti preoccupa? Anzi no, lo chiamerà da sé. E' lui il capo di questa cattedrale. Per cui non è lui da andare dagli altri. Sono gli altri a venire da lui. Ottone. Sì, lui comunque lavorava in vita, nella sua vita precedente, come uomo d'affari. Per cui aveva tanti dipendenti sotto di sé. Cosa ti preoccupa, Ottone? E diciamo che dirige questa cattedrale esattamente in quel modo. Perla, l'inquisitrice qui per vederti. Pure. Beh, ti sta aspettando all'ingresso e mi ha detto di venirti immediatamente a chiamare. Non ha specificato la ragione della sua presenza. Ma aveva un'espressione piuttosto seria. Spero che sia tutto a posto. Beh, se è un'inquisitrice non è mai una buona cosa. Per cui dobbiamo incontrare l'inquisitrice giacobiana. Che già, vista così, non promette nulla di buono. Però noi, da bravi sacerdoti, ce ne andremo qua a pubblicare un proclama. Sì, nel frattempo possiamo anche andare a incontrare questa inquisitrice. Tanto ora che andiamo da lei, parliamo e torniamo qua per il sermone, è arrivata già l'ora del sermone. Proclama 1 Qualsiasi seguace giacobiano che manchi di ricordare il compleanno del portavoce verrà annientato dalle api. Potrei anche dirvi quando cade il suo compleanno, ma sarebbe varare che Giacobbe vi guidi. Oppure, tutti i giacobiani che hanno peccato sono testè perdonati per le loro trasgressioni e sono invitati ad assistere al prossimo sermone, senza paura di alcun castigo. Parlo di te, Bernardo. Ma, allora, la chiesa giacobiana si basa sulla paura dei fedeli. Per cui io direi proclama 1. Anche se proclama 2 sarebbe molto più bello. Sì, proclama 1 La paura dell'ordine giacobiano è moderatamente aumentata. La gente non teme la chiesa e la sua affluenza è limitata. Vabbè, abbiamo tempo. Cioè, non abbiamo tempo, ma vabbè. Hai appena completato cerca se aiuto, aumentando di 10 il tuo livello di successo come guardiano. Cerca se aiuto, adempia 500 responsabilità. Wow! Brava, Dream. Quindi, possiamo andare da questa inquisitrice, che è dall'altra parte del regno. E ti pareva? Perla l'inquisitrice. Ma che dobbiamo fare? Andare a incontrare. Chiedi come va. Così, a caso. Ah, pastore Gabriel, finalmente sei qui. Stavo cominciando a pensare che forse avevi preso un giorno sabbatico fuori programma. Senti, bella, non cominciare a rompere che te le suono, eh. Chiamo Julian che con un bel colpo di spada ti porta... Anzi, chiamo Julian che ti trascina dal bestione, dal mostro della fossa. Quindi, che caspio vuoi? Scopri cosa vuole l'inquisitrice. Cosa posso fare per te? Cara inquisitrice, come forse hai immaginato, non sono qui solo per fare una visita amichevole. Facciamo due passi, pastore Gabriel. Si è già detto così? Ma io avrei un sermone da tenere, per cui, cioè, i tuoi passi... Per me contano ben poco. Torna a casa. Quando qualcuno ti chiede di fare due passi non porta mai buone notizie. Sentiamo cosa ha da dire. Segui perla, l'inquisitrice. Vabbè, noi intanto abbiamo il sermone di cui preoccuparci. Tu aspettaci lì e vedi di non rompere. Per cui facciamo questo sermone. Sono già le tredici. Tieni un sermone. Calmo o fervido? Fervido. Lo facciamo assolutamente fervido. Bambini! Non è il posto dove venire a giocare. Io non ho parole. Sono più bambini che giocano qua dentro che fedeli ad ascoltare. Tra cui uno è ottone. Per cui... Per cui questo sermone fervido deve aumentare la paura giacobiana. Chiaramente la freccia deve arrivare qua. Però ci vogliono tanti sermoni per arrivarci. Quindi non è una cosa fattibile adesso. Non t'agitare però, Gabriel, ti prego. Potresti farmi avere incubi stanotte con sta faccia. Facciamo una bella foto ricordo della faccia sconvolta. E vabbè, attendiamo. Io non ho intenzione di starlo ad ascoltare, sinceramente. Così poi andiamo dalla rompiscatole. C'è qualcuno che ascolta? Sì, dai. Abbiamo un buon pubblico. Il sermone di Gabriel non è riuscito a ispirare terrore. Forse la prossima volta dovrai fare fuoco e fiamme con più impegno. E tutti buh. Vabbè ragazzi, questo posso fare. Ora andiamo da perla. Vai qui. Chiedi della religione. Vediamo se ci risponde. Tesoro O. Ma guarda chi c'è, quell'arrogante di pastore Gabriel. Il guardiano ti ha toccato di recente. Ho sentito che voi due avete un rapporto molto stretto. Sapessi, mio caro. A proposito, hai un bel costume. Dovresti candidarti alla carica di giullari di corte. Chi caspio sei? Il regno sta crescendo bene. I giacobiani hanno fatto un buon investimento a creare qui una cattedrale. Tu sicuramente hai profuso grande impegno per diffondere gli insegnamenti di Giacobbe. Eppure ti scherniscono apertamente per la tua fede. È ovvio che la colpa è mia per essere qui nel momento sbagliato. Sì, è ovvio. Fa parte di Giacobiani. Quindi Quindi impara a conoscere. Non è che devo andare al luogo o cosa? No. In che edificio ero bloccata? Vediamo se questa cosa si sblocca facendo piazza cittadina. Ah no, siamo già qua. Seguirla l'abbiamo seguita. Quando succedono queste cose non è nulla di buono. Adesso dove sta andando perla? Dove stai andando? Boh Anticipiamola Non so che dirvi Che caspia di giro stai facendo? Dove stai andando? Ah, alla fossa del giudizio. Vai qui Voglio proprio vedere dove ci porta in questo giro girotondo. Avete proprio una simpatica fossa. Sarà sicuramente utile per ricordare alla gente quale destino la aspetta se non assolve ai propri obblighi. Ti fermi un attimo, oh mamma mia. Vai qui. Ora vieni, andiamo a dare un'occhiata alla tua cattedrale. Sono impaziente di vedere cosa ci hai fatto da quando la costruzione è finita. Cosa vuoi che ci abbia fatto? Che ci abbia costruito una taverna dentro come ha fatto Daniel? Beh sì, è comprensibile. No, alla peggio ci giocano i bambini. Per cui tu raccogli i fiori selvatici per favore. Così cerchiamo di procurarci altro cibo. Perché se no siamo messi male. No. Allora facciamo così. Raccogli anche questi e vai a pescare un attimo. Tutti questi? No niente, non sono fiori selvatici. Allora peschiamo. Che se no qua la cena mica si prepara da sola. Abbiamo raccolto una trota. Va bene allora. Torniamo a casa. Seguiamo quell'arpia. Anzi, prima di tornare a casa, raccogli qua. Dopodiché torna a casa. Adoro gli archi torreggianti appuntiti della cattedrale. Sono il simbolo dell'autorità superiore a cui dobbiamo sottometterci. Ci ricordano qual è il nostro posto. Tu conosci il tuo posto nell'ordine delle cose, pastore Gabriel? Avrei delle opinioni al riguardo, se ti va di ascoltarle. No, non ne ha la più pallida idea, sinceramente. Però, sentiamo, sentiamo cosa ha da dirci. Per cui, ascolta cosa ha da dire l'inquisitrice. Sentiamo quale perla di saggezza ci tira fuori. Eh? Eh? Perla, perla. Ah, sì, va bene. Non fa ridere. Vabbè. Il tuo posto, pastore Gabriel, è quello di rappresentante dello stile di vita giacobiano in questo regno. Il tuo impegno farà convertire miscredenti alla nostra giusta causa. Ora vediamo come te la cavi nel tuo compito. Ascolterò un tuo sermone. Adesso, vabbè, allora. Impostiamo il sermone alle 23. Per cui, se proprio ti va di ascoltarmi, tesoro mio, devi stare sveglia fino a quell'ora. Io intanto mangio una bella zuppa di trota e cavo di tuoi. Però Gabriel sta attuando la tattica del mi comporto come te. Magari, se prego anch'io, si ricrederà. Ma perché le porte restano sempre aperte? Vabbè. Che fai, mimiti? Ma no, prego il guardiano esattamente come te. D'altronde sono un pastore, no? Ebbè, cerchiamo di conoscerla. Impara a conoscere. Mi sa che è malvagia questa. Ho come l'impressione che sia un filo malvagia. Non abbiamo avuto modo di parlare comunque, ma raccontami di te. Qualsiasi cosa di te. D'altronde ti mascheri, per cui non posso sapere com'è il tuo aspetto. Ma non serve l'aspetto, parlano gli occhi. Sì, sì, certo. Impara a conoscere. E poi... Lamentati del lavoro. No. Ah, mi che vuole imparare a conoscere di nuovo. Ma stiamo scoprendo qualcosa? Ah no, sappiamo già tutto. Tras andata, malvagia e crudele. Ci avrei scommesso. Pret e giacubiano. Tocco del guardiano. No, lasciamo stare. Prima delle 23 che si fa? Un pisolino. Per cui fai un pisolino e ti sveglio io. Poco prima delle 23. Per cui... Tra pochissimo. Bene, alzati. Usa. E poi vediamo. Ci sono solo... Uh, c'è Julian che vuole ascoltare il sermone delle 23. Come mai? Pensi di farti giacobiano? Mah. E poi ci sono ottone e perla. Stefano è un apprendista. Oh, 23. Tieni un sermone. Per cui fervido. Ovviamente fervido. E vediamo come la prende. Dovrò fare in modo che il sermone sia buono, mi sa. Eh, sa anche a me. Però non ha una concentrazione abbastanza alta per fare in modo che sia ottimo. Tresire e Julian c'è qualcosa di strano. No, vabbè, stanno solo parlando. Non devo preoccuparmi. Eccola la puzzona. Eccola la trasandata. Vabbè. Vediamo che ci dice. È stato buono questo sermone? Sembra che la congrega abbia apprezzato il sermone di pastore Gabriel e la chiesa ha ricevuto donazioni per 223 simole. Wow. Spero che perla abbia trovato soddisfacente il mio sermone. Temo di no. Però scopriamo cosa ne pensa. Raccoglie le impressioni sul sermone. Oh mio Dio. Questa pazza davvero. Già il fatto che si è vestita così? Ehm, tesoro? Va che mi stai spargendo o lezzo in chiesa come fosse incenso. Dai, ti prego. Perla l'inquisitrice scosse la testa e fece un gesto di impazienza. Senti Gabriel, percepisco del rispetto per il guardiano, ma manca ancora parecchio al terrore. Ho preso le redini di questa chiesa e sono... delusa. Poi continuò. La chiesa vuole che continuiamo a crescere, a crescere e manteniamo la nostra influenza. È volere del guardiano che coloro che non riescono a fare la loro parte vengano ispezionati dall'alto consiglio. Non è un processo piacevole, pastore Gabriel. Aiutami a riflettere sul guardiano affinché possa illuminare il tuo cammino verso la salvezza. Va bene. Aiuta Perla l'inquisitrice con le sue preghiere. Che il guardiano mi guidi in questa prova. Per cui che dobbiamo fare? Tocco il guardiano. No. Assisti nella preghiera. Dato che ci siamo, lo facciamo, no? Ho sentito il volere del guardiano. Per redimermi dovrai farti quanto... Redimerti? Dovrai fare quanto segue. Portare la nostra fede ad altra gente e benedire la cattedrale per purificarla dagli spiriti malefici. Devi anche trovare una reliquia sacra che attiri la gente mostrandole il potere della chiesa. Se farai queste tre piccole cose, pastore Gabriel, la chiesa non dubiterà più della tua devozione. Tre piccole cose alla faccia. Cioè, portare la fede si può fare purificare la cattedrale anche. Mano a reliquia sacra la vedo un po' più difficile. Comunque abbiamo raggiunto il livello 2 di prete giacobiano. Probabilità che un sermone dal pulpito abbia successo, leggermente più alte. La soluzione dei sim abbia successo, leggermente più alto. E conversione alla fede giacobiana, successo, leggermente più alto. Va bene. Per cui io andrei a nanna e mentre lui dorme noi vediamo cosa dobbiamo fare esattamente. Per cui dormi. E mentre lui dorme ci vediamo queste tre cosucce. Miscela acqua santa in una pentola. Dovrei trovare degli ingredienti nel pozzo cittadino e al negozio del villaggio. Bene, dobbiamo andarci anche per acquistare un po' di cibo. Rifletti sul guardiano per trovare una reliquia. Dove mai posso trovare una reliquia sacra? Non è che si trovino in giro. Devo riflettere sul guardiano. E converti 5 persone alla fede giacobiana. Perla l'inquisitrice non sarà soddisfatta finché non ingrandirò la mia congrega. E che pizza! Fingi di dormire. Oh, abbiamo ricevuto pietra del mana. Per cui tutto bene ciò che finisce bene. Quanto costano? Urca? Ce le vendiamo sì. Per cui svegliati. Facciamo colazione. Miscela acqua santa? Ma... Ma non ci sono gli ingredienti. Vabbè. Semi. Porridge di semi. Poi andiamo al mercato. Non so con quale ordine però. No, facciamo che prima riflette sul guardiano. E... Sì. Sul cammino convertirà 5 persone. Usa. Quindi. No, non rendi omaggio. Rifletti qua. Rifletti... E... Dagli. Dai. Ti prego. Vomito ogni volta che mangia. Che pizza. Dai. Fai pipì e poi rifletti sul guardiano. Scusa? Ti serve compagnia pastore? No, non gli serve compagnia. Grazie. Al contrario di Daniel, del suo gemello, lui invece era... È sempre stato un uomo tutto d'un pezzo. L'unica donna che con cui abbia mai avuto a che fare, oltre a sua madre, è sua moglie. Per cui... Interessante. Sento di dover chiedere aiuto a una persona improbabile. Devo cercare qualcuno che sembri essere la causa di un problema, anziché la soluzione. Ah, già questo è qualcosa. Certo che meditare vicino a un vaso da notte... Ha qualcosa di mistico, sì. Chi è ancora che rompe l'Orelai? Ha finito? Cioè, entrate pure, eh? Basta? No, basta. Cerca qualcuno che... Avversi la chiesa giacobiana. C'è qualcuno che ha parlato apertamente del proprio disprezzo verso la chiesa? Sì, c'era quel tizio. Quel tizio strano che la... Però non l'ho visto. Mi ricordo che era solo un tizio pelato. Sarà ancora in piazza se tutto va bene. Per cui, io direi che... Misce l'acquasante in una pentola. Andiamo al negozio del villaggio. O magari no, cerchiamo il tizio. Nel frattempo convertiremo un po' di gente. Intanto partiamo da quelli che sono nella cattedrale, per cui Celestria. Converti alla fede giacobiana. Mi piace che abbiano messo due chiese, perché... Una rispecchia, diciamo, un po' il cattolic... La differenza, ecco, tra il cattolicesimo e l'ortodossia. Si dice così? Vabbè, comunque... L'ortodossia, penso. In caso correggetemi. Pastore Gabriel ha convertito Celeste e la cameriera alla fede giacobiana. Bene. Poi tu, visto che sei tanto interessata, converti alla fede giacobiana, per cui già due li abbiamo fatti. Sorella, solo unendoti a noi potrai ricevere la benedizione del guardiano e entrare in camera mia tutte le volte che vorrai. Ma senza fare altro, perché il guardiano non approva. No, sinceramente, a me non me ne frega un tubo, eh. Se ci provi o meno con questa tizia. Quindi. Due convertiti. Ah. Persu... Ah, perché sono arrivate le responsabilità. Assolvi per due ore e persuadi il membro della gilda per scoprire segreti di guerra. Ah, dobbiamo usare il tavolo! Per le torture. Beh, la sedia per le torture. Non ho parole. Davvero, non ne ho. Vendiamoci queste cose qua. E... A che tempo siamo? Agli sgoccioli. Però... Vabbè, lui sta proprio arrivando nella tana del... del lupo. Per cui, cavoli suoi. Che abbiamo qua? Eden, Meldina. Allora, io direi di fare così. Per intanto ci fermiamo qua. perché appunto non abbiamo più... Cioè, diciamo, non abbiamo più così tanto tempo. Per cui ci fermiamo. La prossima volta andremo in piazza e faremo tutte queste belle cosucce. Siamo anche quasi a livello oro. Per cui io direi che è possibile, ma non posso promettere, che finiremo questa missione in tre episodi. è possibile. Comunque, se questo di episodio vi è piaciuto, io spero di sì, mettete mi piace, commentate, che mi fa sempre molto piacere, ditemi cosa ne pensate di questa versione di Gabriel, cosa ne pensate di questa missione, se vi interessa. È una missione un po' diversa da quelle che abbiamo visto finora, tutte incentrate sulla guerra. Per cui ditemi se vi piace. Vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i link a tutti i miei gameplay, per cui alle playlist, se avete perso un episodio, volete cominciare una nuova serie, potete trovare tutto quanto lì. Trovate anche i link ai social, incluso il mio blog, e ai canali dei miei amici youtubers, che vi invito a seguire. Per cui, io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!